Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La nota a vicenda del cosiddetto padre H è pronta ad arrivare in tribunale. Il Papa Emerito Benedetto XVI ha dato la propria disponibilità a difendersi in un tribunale tedesco, tramite una memoria difensiva, dall'accusa di non avere agito contro un prete pedofilo seriale all'epoca in cui era arcivescovo di Monaco di Baviera. Con questa decisione di Ratzinger il processo, che non ha rilevanza penale ma può aiutare a ricostruire la vicenda storica, può continuare. La denuncia era stata asporta da un uomo che ha affermato di aver subito abusi da parte di un prete, che fu trasferito nella diocesi di Ratzinger, che all'epoca era arcivescovo di Monaco e Frisinga. La decisione del Papa Emerito Il 95enne, Papa Emerito Joseph Ratzinger si sarebbe affidato allo studio legale Hogan Lovells per difenderlo dalle accuse di aver tenuto comportamenti erronei nel gestire casi di preti pedofili a Monaco. Ora Joseph Ratzinger e gli altri accusati hanno tempo fino al 24 febbraio per presentare una memoria difensiva. Come riportato dalla Repubblica, la Gurchinger Initiative Sourtaig, associazione di fedeli nati nella parrocchia di Garking per fare luce sulle malefatte di Padre H, ha accolto in modo positivo la decisione del Papa Emerito.